Rieccoci qui, come ho detto, per buona parte potrebbe essere l'ultimo video per oggi, giusto per dare a me, dare a voi un po' di respiro e di serenità e di spensieratezza. Allora, parliamo di Paolo Canestro, Euro Cup, le nostre squadre italiane oggi praticamente avremo in campo Trento e Virtus Bologna, entrambe in trasferta, Trento in terra francese, a Nanterra alle ore 19, la Virtus Bologna in casa del Morabank Andorra, credo squadra spagnola se non mi sbaglio, alle ore 20. Per quanto riguarda i piazzamenti Trento e Virtus Bologna, Allora, la Virtus nel gruppo C è seconda in coabitazione col Monaco, 2 vinte su 2, in Mora-Bank Andorra 1 vinte e 1 persa, Trento anche lei 2 su 2 vinte come anche il Gran Canaria, in Nanterra 1 vinte e 1 persa. Domani poi avremo in campo per l'Euroleague invece l'Olimpia Milano, e vabbè domani poi ovviamente ci saranno altri video, magari Euro Cup, squadre italiane, Euroleague a Milano, quindi, quindi con l'aspettativa più o meno che potrebbe essere l'ultimo video per oggi, noi ci vediamo nel caso non faccio nessun altro videoclip aggiuntivo domani, sul mio canale trovate un po' tutto, beh sono le 13, quasi buon pranzo a tutti e alla prossima, ciao, basta la vista la grande, ciao.